Un evento di prevenzione è quello del 28 maggio in collaborazione con il Chimani Sclappavia. Quanto è importante questa iniziativa? Questa iniziativa è importantissima e si inserisce nell'alveo di altre iniziative già patrocinate e già seguite dall'amministrazione proprio sulla prevenzione, la cura e la diagnostica. Anche in questo caso l'attenzione è rivolta ai giovani, ai ragazzi della quinta elementare prima media che verranno appunto visitati da questo team specializzato in scogliosi proprio per prevenire quella che può essere, per andare a cogliere quelli che sono i primi sintomi di una patologia che può aggravarsi e diventare molto più importante dal punto di vista sanitario. E quindi diciamo che la prevenzione come istituzione deve essere messa al primo posto proprio perché una buona prevenzione oggi evita innanzitutto problematiche sanitarie domani ma soprattutto va in funzione anche di, diciamo così, ridurre quelle che sono poi le spese per la sanità pubblica ma non solo, quello che è anche un corretto stile di vita. Noi ci stiamo muovendo parecchio sulla promozione dei corretti stili di vita. Anche settimana scorsa ho partecipato ad un convegno sul come invecchiare bene, sul come invecchiare in forma e quindi passando dall'età più matura all'età più giovane l'amministrazione a 360 gradi cerca proprio di arrivare, di promuovere prevenzione, corretti stili di vita, diagnosi precoce proprio per evitare le problematiche più grosse in futuro. E questo si inserisce anche in un periodo dove è necessario riprendere quello che è la prevenzione perché purtroppo, come è stato detto anche stamattina, durante la pandemia si sono lasciate un po' in disparte tutte quelle attività volte a prevenire malattie e questo invece deve essere ripreso, tutta questa attività deve essere ripresa e perché no? Incominciamo dai giovani e ripartiamo nel cuore pulsante della città che è la cupola Arnavoldi e quindi vi aspettiamo tutti il 28 di maggio dalle 9 alle 18 anche solo per venire a curiosare, a capire che cos'è la scogliosi. Non è necessario venire col bimbo da sottoporre alla visita, ma anche proprio come giornata informativa perché questo ha un compito istituzionale molto importante. 200 slot disponibili per altrettanti ragazzi, una grande offerta da parte del Chivanis Club per la collettività più giovane. Sì, 200 posti perché è la prima volta e quindi vogliamo partire con un'offerta che ci poteva sembrare congola, come garante so bene che i nati nel 2011 in questo comune sono circa un migliaio, 1.100, come tutte le attività la prima volta non è detto che ci sia il passaparola che sicuramente dal secondo anno avverrà e quindi 200 ci sembrava un numero giusto. È il numero che si può fare in una giornata, nel caso faremo in modo che le giornate possano diventare di più e possiamo offrire il servizio alla cittadinanza. Uno screening in fase pre-adolescenziale o adolescenziale è comunque fondamentale per evitare danni a lungo termine? Sì, è molto importante identificare quel 3% della popolazione che può essere affetto da scogliosi di opatica, cioè da uno scogliosi di cui non se ne conosce causa, che dipende anche dalla familiarità, che se uno ha un genitore solo che ha una scogliosa ha un rischio del 30%, se ne entra il 50%. Quindi è importante nella fase tra i 13 e i 15 anni, faccia conto che è colpito prevalentemente il sesso femminile 7 volte su 10, quindi le ragazzine di quinta elementare e i ragazzini di prima media in particolare, altrimenti potremmo avere delle complicazioni o delle evoluzioni della deformità che in età adulta potrebbero dare veramente una netta diminuzione della qualità di vita. L'attenzione verso i ragazzi passa anche da iniziative come questa? Certamente sì, l'amministrazione da questo punto di vista ha dimostrato nell'arco del proprio mandato di essere molto presente e attenta a diverse situazioni. Una di queste è proprio quella legata all'aspetto fisico-sanitario, esattamente, per cui un'iniziativa che si concretizza grazie proprio al Cavani's Club Ticino Unpavia, che ci ha proposto qualche mese fa questa idea e che abbiamo subito accolto e con l'assessorato ai servizi sociali e all'istruzione abbiamo unito le nostre forze e con l'aiuto chiaramente di Andrea Salvini che si occupa della protezione civile sul nostro territorio abbiamo trovato una soluzione sicuramente ottimale. Quindi il 28 di maggio aspettiamo le famiglie con i propri figli che fanno parte della quinta delle scuole primarie proprio per uno screening gratuito chiamato Scoliosis Day, per cui un'attenzione particolare verso una problematica che ha fatto parte anche di tanti noi giovani e che ha una prevenzione e può essere veramente seguita e risolta proprio sul nascere. Un'attenzione che stiamo mettendo su vari fronti come dicevo e anche in questo caso si concretizza con un'azione particolare diretta verso un'utenza importante come quella dei più giovani per cui con grande orgoglio e attenzione vi aspettiamo il 28 di maggio in Cupola Arnaboldi dalle 9 del mattino fino alle 18 per questo screening gratuito sulla Scoliosis per i bambini.